buongiorno cari amici benvenuti a casa di mau siamo qui a come garden stiamo facendo cavolo soffocato qua classica ricetta della sardegna cosa ho fatto messo l'olio d'oliva in abbondanza bicchiere d'acqua e due cavolfiori e ha fatto bollire il coperchio per circa 20 minuti sta asciugando pian piano è quasi pronto insomma poi ci aggiungiamo un pizzico di pepe il sane e poi ci metterò un goccino di aceto poco a poco e poi ho preso delle olive ecco e ci mettiamo giù ok vieni una bella mescolata e facciamo finire di cuocire santa pace fuoco molto lento deve proprio quasi bruciare il fondo poco basso questa parte sto facendo rosolare molto lento del maiale un po d'olio d'oliva qui facciamo un bel caffè buon fine settimana a tutti ragazzi da mau ma un po Grazie a tutti. Ecco qui, la caffettiera è pronta, facciamoci un bel caffè e passiamo alla preparazione. Facciamo una ricetta indiana, quello che chiamano buriani con i maiali. Questa è la ricetta un po' lunga ragazzi, quindi andate, tornate. Adesso andiamo a tagliare un paio di cipolle. Facciamo il rimpianto. Ecco qua, gli attrezzi. Allora, la nazione mattina di tavolozza. Ok? Allora ragazzi, faccio rosolare per bene. Maiale, c'è un bel superficie un chilo, un chile e due, un chile e due di carne. Questo va pian piano. C'è anche scoperto. Ok? Allora, prendiamo delle cipolle. Cipolle ragazzi. Cipolle ragazzi. Aglio. Zenzero. Maiale deve cuocere bene ragazzi, mi raccomando. Cipolle ragazzi. 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 Buongiorno Simone. Stiamo facendo un curry. Si chiama curry guriani. Una ricetta indiano. E' un pochino lenta. E' un pochino lenta. Quindi, abbiate pazienza. Eh, ti voglio vedere con il microwave Simone. Come faresti? Eh? Ok. Ok. Cio. Cio. Schiacciate bene l'aglio, secondo me si sta giù in Sardegna, oggi c'è il sole, c'è una giornata foscura, però non c'è freddo. Allora ragazzi, laviamo tutto innanzitutto, ecco qua. Allora, mettiamo bene la cipolla, il caffè sta uscendo qua, è pronto un attimino. Allora, mettiamo bene la cipolla. Allora, mettiamo bene la cipolla. Allora, mettiamo la cipolla. Ci godiamo un bel caffè. Buongiorno Stefano, benvenuto. Sì, ho visto tutto, povero chef. Ho visto, ho visto Stefano, gente pazza in giro. Poveretto. Era tra i miei amici su Facebook, penso un po', anche senza conoscerlo di persona. È un grande uomo. E cosa vuoi fare? È successo, ragazzi, triste. Allora, il caffè ce l'abbiamo qua. Io lo bevo senza zucchero. Sì, era un grande chef. Lo seguivo, ogni tanto guardavo i suoi video su Facebook. Era bravo pescatore e cuoco. Il ristorante si chiama la Suvotubeccio. È il Porto Vecchio, insomma, prende il nome della località. Che tristezza, che tristezza. E' un periodo un po' difficile qui all'ombra, eh. Purtroppo, Covid, pensiamo di essere usciti, ma non è così. Quindi dobbiamo stare attenti. Mascherina dove si può, per carità. Allora, qui c'è il cavolo soffocato. Vi ho già spiegato un attimino fa. Sale, peppe. Qui ho messo olive, ripiene con delle acciughe. Un cucchiaino d'olio di aceto e olio d'oliva. Adesso qui la pentola riscalda qui giù. Giro un po' la camera per voi. Ecco qua. Mettiamo olio d'oliva. Ecco qua. Tanto è giusto. Facciamo riscaldare un attimo. Vedete qui sta cuocendo il maiale per i fatti suoi. Ok, appunto, è meglio far così. Fatela cuocere bene la camera di maiale, mi raccomando. Ecco qua. Sta andando bene. Ok, facciamo riscaldare l'olio d'oliva. Beviamoci il caffè. Buona giornata a tutti amici da Nao. Allora. Ecco qua la pentola giù a calda. Iniziamo le cipolle. Due cipolle medie. Piense. Allora. Appendiamo il francio ugliano e il lago. Ok, parla di cipolle. E la lago. Un po' di posto. E' un po' di posto. E' un po' di posto. Questo è un po' di posto. Io copro il magliale perché prima possiamo magari questa pentola mi raccomando e cavolo è buono ne ho messo due addirittura facciamo rosolare le cipolle per bene io ci metto un pizzico di sale ecco qua facciamo rosolare per bene con molta carne e continuiamo con prendere in poltiglia lo zenzero e l'aglio allora è un po' difficile questo periodo ragazzi ma come in Italia da prestito c'è poco da fare vediamo che succede proprio una poltiglia ragazzi se avete il macinino è più facile un po' che ho le nostre cipolle un mescolacchino ogni tanto facciamo una bella ricettina lo giuro che me ne vorrebbe un po' di cipolle e fa che nella paglia di mangio è più di 1 kg di carne più magliale Allora, io ho preso le verdure da campo, abbiamo i mercatini a fine settimana, che vengono la roba dei piccoli agricoltori, come devono chiamare, quindi è roba che ha un certo sapore, troppo uomo. Ecco qua, non, è un po' di carne, non è un po' di carne, non è un po' di carne, andiamo qui a frittare il nostro riposto, l'angelo centero, ok guys, we're making pork bujani today, find one onion here, three onions, three onions with a pinch of salt, olive oil, then we are cooking separately the pork, there are protes as well, ci ho messo due zampecchine di maiale anche, c'è vero il sapore, vediamo un po' la cottura a piacere, da, deve essere proprio una coltiglia questo, ragazzi, altrimenti non va bene, un pò di carne, un po' heo al cavolo soffocato, asciugando bene, del profumino qui, ragazzi, poi il caffè, Oggi viso al dentista, come fare molto culturazione, ecco qui il riposo, non so, stiamo tranquilli oggi, in casa tranquilli. Allora, io, con il cucinale del riso, la cottura, un po' più della metà, non deve essere corto. Allora, io, con il cucinale del riso, la cottura, un po' più della metà. Allora, le cipolle stanno cucinando di Santa Pace, devono proprio colorare. Buongiorno Alessandra, benvenuta. Facciamo una ricetta indiana, un curry particolare chiamato bigliani. Allora, questa parte, il cavolo è quasi pronto. È diventata proprio una poltiglia. Andiamo avanti, con le cipolle. Devo finire di tritare l'alto e lo zenzero. And guys, chop finally the ginger and garlic. It's going to beccato. Andiamo a cercare. Andiamo a cercare. Andiamo a cercare. Le cipolle purtroppo sono un po' lenti, ci vengono un po' 10 minuti buoni, perché il rosolino fa bene, adesso ci aggiungo il tritto, ecco qua, il cap, la brocchina, mescoliamo bene. Va bene ragazzi, ok che non si bruciva, niente, continuate a mescolare. Allora, ok ragazzi, aggiungo i giovani, i giovani, i giovani, i giovani, i giovani, i giovani, le cipolle, i giovani, ora ragazzi sono piena, sono alcuni, solo lacrNice, diceva richificato di energia, usa dal passaggio, stiamo writing i giovani, i giovani, questo credore possa essere In here. A presto. 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 Io ci metto un po' di noce moscata, adesso ci mettiamo della paprika, abbondanza. Ok? Mescoliamo bene. Aggiungo un goccino d'acqua. A presto. Ok. A presto. 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 Se la cottura è lenta e lunga, il sapore del peperoncino svanisce un po', va bene. Un pochino d'acqua. Adesso io preparo il tegamino per il riso, come abbiamo detto prima. La cottura è un po' più della metà, andrà bene anche tre quarti, ma un po' più della metà. Il tegamino, spostiamo questa parte, abbiamo il tegamino del riso. Facciamo spazio proprio, ragazzi. Allora, mettiamo il riso. Facciamo bollire l'acqua. Ecco qua. Questo sta andando a meraviglia. Adesso noi tra un po', lasciamo ancora il maiale un pochettino lì a cuocere. Possiamo pian piano trasferirlo in questa pentola. Ok. Allora, mettiamo le pinze. Ok. Sì, piccantissimo. Ci sono anche zampette di maiale qua, ragazzi. Sì. Piccante. Eh sì. Ecco qua. Ci vuole santa calma e pazienza. Ok. Adesso. Adesso. Adesso, ragazzi, col mio fan. Ci aggiungiamo il pomodoro qua. Mi sarebbe stato meglio tagliare la carne a pezzi, eh. Però va bene così. Ormai. Allora, ci aggiungiamo l'acqua. Adesso mescoliamo bene. È difficile adesso mescolare, però. Fiamma alta. E facciamo cuocere per un po'. Spostiamo questo nel senno. Spostiamo questo in un segno. Sembliamo. Allora. Allora. È santa calma. Allora. Allora. Seguiamo. Eccolo fangolo. Allora. ecco qua entra in ebollizione anche il riso però io siccome ce n'è tanto di carne io metto un altro po' di riso qua un altro bicchiere e siamo ecco qua ecco qua va bene ragazzi facciamo la cucina pian piano questo riso entra in ebollizione e via adesso vai a controllare la carne non si attacca sul fondo logicamente la cucca numero 3 about 180 degrees I think è now it's to cook really ok, i cover my red rice and what we have to do now, we have to make the dough to seal the pot at some point, i will explain as we go along so, i will go and see you the next time Ok, so and some space. Keep checking your dish. Really gorgeous guys. Good stuff. Right, so we need another touch now. I'm gonna add some yogurt. Sì, prensa leggero. Questo è più che altro, una colazione. Ecco qua, ragazzi, ci mettiamo circa 200 grammi di iodo. Bella mescolata, mi raccomando. Ok, fatta cuocere con tanta calma. Adesso mi allontano 10 minuti, ragazzi. Ecco qua, l'acqua qui bollisce. Il riso bollisce, quindi abbassiamo la fiamma al minimo e chiudiamo per 12 minuti. Il tempo di cambiare le mondezze. No, no. Andiamo, goes back. Come and完 Miller. Iniziamo il riso. U 담da il riso. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Allora, e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. e 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 tutti. e a tutti. e tutti. e a 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 tutti. e tutti. e a tutti. ci serve il prezzi. e vi serve il basilico. non so. mettiamo dentro. e a tutti. 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 e a tutti.